Un'area abbandonata è diventata il Parco delle Cave, portando nuovi turisti, offrendo nuove opportunità alla Valle Cervo. Il punto panoramico recuperato assume allora nuova importanza perché si affaccia non più su una cava di smessa ma su un'area di valle che ha ripreso attrattività e vita. Più che una nuova bellezza in valle, un nuovo balcone da cui ammirare la bellezza della valle. Grazie. Grazie.